Il giudice di pace di Lecce, Luigi Piro, ha riconosciuto il diritto al rimborso da parte dell'Asla di Lecce delle somme spese per il pagamento del parto indolore con epidurale ad una giovane mamma che aveva diffidato inutilmente l'azienda sanitaria. Nicoletta D'Agata aveva partorito il 6 novembre del 2011 nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce e aveva richiesto di essere sottoposta all'epidurale. All'epoca dei fatti, l'Asla Lecce aveva comunicato che la procedura era possibile soltanto in intramenia, ossia pagando gli anestesisti come se svolgessero attività libero professionale. I costi erano naturalmente a carico della donna che decise di accettare il pagamento di 800 euro. Suo padre, Giovanni D'Agata, che è anche presidente dello sportello dei diritti, ha deciso in seguito di diffidare l'Asla dal momento che il ministro della salute dichiarava invece che la terapia in questione era assolutamente gratuita poiché è entrata ufficialmente nell'elenco delle nuove voci inserite nei cosiddetti LEA, i livelli essenziali di assistenza, pertanto garantita senza costi per le pazienti in tutti gli ospedali a partire dal 2013. Così la giovane mamma, assistita dall'avvocato Luca Monticchio, si è rivolta al giudice di pace di Lecce per vedersi restituito ciò che indebitamente era stato percepito dall'ente, che al contrario sosteneva la correttezza del suo operato. Il magistrato onorario, ripercorrendo le tempistiche e rilevando correttamente i regolamenti vigenti all'epoca del parto e della sottoposizione alla terapia antalgica, ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute dalla donna ed ha quindi condannato l'Asla a restituirle 801,81 euro oltre interessi e spese processuali.